ben ritrovati a un nuovo appuntamento con arte vagando siamo in compagnia di vittoriano ferioli quello di cui dobbiamo parlare vogliamo parlare quest'oggi è il lavoro principale diciamo dal quale arriva vittoriano che si è sempre occupato un po di portare l'arte nelle varie realizzazioni di prodotti in un certo senso in questo caso è un'etichetta di un vino poi andremo a vedere anche altre cose l'idea di portare appunto l'arte in questo caso sulle etichette sui barattoli farne della poesia un risultato che poi andremo a vedere non voglio svelare niente come nasce è vero che tu nasci come artista scusa il gioco di parole proprio facendo inventando la pubblicità le confezioni meglio ancora no e poi che è venuto l'idea di 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 portare la tua esperienza in questo settore praticamente ho fatto 35 38 anni di 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 attività grafica pubblicitaria sono partito da giovane ragazzo negli anni 70 proprio qua in zona poi ho fatto un po di lavori a milano vabbè ho avuto l'opportunità di lavorare per grosse aziende e con loro il lavoro sul prodotto era 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 normale io poi ho avuto l'opportunità di avere proprio un gruppo di lavoro che lavorava squisitamente sul packaging per cui diciamo che il mio lavoro a vestire prodotti insomma per qualche anno ho fatto questo però diciamo il gesto artistico l'ispirazione artistica il lavoro artistico mi ha sempre accompagnato in questi anni e oggi che dedico il mio tempo al mio lavoro artistico ho cominciato a ragionare sul fatto di come poter sposare un gesto un segno artistico con oggetti che tutti i giorni noi utilizziamo da lì e nasce il le bottiglie artistiche il vino di vito perché io dipingo le le etichette una una su tela come dipingere un piccolo quadro in acrilico e ogni bottiglia che abbiamo visto è una un'etichetta a sé quindi la bottiglia diventa un prodotto unico c'è la mia idea era quella di uscire dal seriale perché le mie confezioni praticamente poi venivano stampate in migliaia migliaia centinaia di migliaia di pezzi io qui invece volevo fare una cosa che rimanesse come dire proprio come opera unica e quindi il vino ogni bottiglia di vino è opera unica e se poi andiamo a vedere le poesie anche perché i barattoli poetici nascono con lo stesso criterio dentro nei barattoli c'è una poesia e c'è un'emozione che è data da un profumo da un elemento che nasce con la poesia tecniche che usi per realizzare queste queste etichette sono tela la base sulla quale tu vai con acrilico piuttosto che collaggio visto sì poi mi piace la matericità sulle etichette a un certo punto ha preso anche un corpo perché inizialmente molte persone mi dicevano ah ma non sono stampate perché non tutti riescono a capire immediatamente la cosa a quel punto lì mi è venuto in mente a quel punto di come dire di stressare l'etichetta per cui per cui nelle etichette ci sono bottoni ci sono materiali ci sono ci sono ci sono pietre ci sono ci sono tante cose sì sì e l'ispirazione ti 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 arriva così non pensando se un cabernet piuttosto che un altro non c'entra diciamo che ci sono alcuni elementi per esempio le etichette scure quando io faccio se faccio cabernet bon ton a me è venuto in mente lo scuro il nero coi bottoni rossi perché certo c'è un richiamo c'è un richiamo a questa acromia sì 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 all'acromia per esempio l'Arnès molte bottiglie di Arnès sono sul verde sul chiaro perché è un vino chiaro cioè alcuni elementi li introduco all'interno e poi per il resto invece spazio 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 in tanti in tanti modi arriviamo invece ai barattoli adesso che tra l'altro i barattoli arrivano dopo una poesia sì esatto che allora ti arriva la poesia tu la illustri tra virgolette dopodiché nasce un barattolo no questo barattolo contiene come vediamo la poesia arrotolata e degli elementi che fanno riferimento come dicevi a dei profumi piuttosto che elementi della poesia stessa è ovvio per esempio in cracker ci sono dentro i cracker con la poesia arrotolata in letti siccome nella poesia dei letti si parla di foglie gialle che dentro nel barattolo ci sono foglie con dei profumi che che io metto dentro piuttosto che amore dove si parla di questa fetta di polenta e dove dentro c'è della farina della farina della farina gialla e mi piace il messaggio arrotolato perché ricorda il messaggio che arriva dal mare dalla spiaggia della bottiglia cioè quante volte cioè nei film si vede che è arrivato il messaggio della bottiglia cosa c'è dentro in questo messaggio certo e io ci metto la poesia che la maggior parte sono di pino bravin che è un poeta poeta che ha uno studio a busto arsizio tra l'altro diciamocelo bene anche per oggi è tutto ringraziamo vittoriano ferioli e noi invece come sempre ci vediamo la prossima settimana grazie di essere stati con noi e tanti saluti a tutti